Esercizio 33, un camion B viaggia alla velocità costante di 40 km orari, oltrepassa una macchina ferma A, parcheggiata al lato della strada. Dopo 4 secondi la macchina parte con accelerazione costante e in 20 secondi raggiunge e controsorpassi il camion. Calcolare l'accelerazione costante della macchina, suggerimento conviene porre T uguale a 0 quando parte la macchina. Quanti metri ha percorso la macchina al momento del controsorpasso e disegnare i soliti tre grafici in posizione, velocità e accelerazione in funzione del tempo, disegnando in ciascuno il modo di entrambi i mezzi con due colori diversi. Qui ho disegnato le tre fotografie, la prima quando il camion supera la macchina ferma, la seconda quando la macchina parte 4 secondi dopo, che noi chiamiamo tempo 0, quindi la prima fotografia corrispondeva al tempo meno 4 secondi. E la terza fotografia è 20 secondi dopo la partenza della macchina, il camion e la macchina si trovano di nuovo nello stesso posto come all'inizio. E la macchina sta controsorpassando il camion, quindi si capisce già che la sua velocità è superiore a quella del camion in quel momento, altrimenti non la sorpasserebbe. Il camion viaggia a velocità costante 11,1 m al secondo, mentre la macchina sta ferma fino all'istante 0, poi accelera e quindi lo spazio che percorre la macchina si calcola con la formula V0T più un mezzo AT alla seconda. Con partenza da ferma, quindi rimane solo questo termine, dove c'è l'incognita, cioè l'accelerazione della macchina. Sappiamo che la macchina accelera per 20 secondi, sono infatti i secondi che passano tra la seconda e la terza fotografia, 20 secondi. Dobbiamo calcolare quanta strada fa la macchina in questi 20 secondi, da quando parte praticamente da qui fino a qua. E' la stessa strada che fa il camion, ma il camion la fa in 24 secondi, perché il camion e la macchina erano appagliati qui, poi passano 24 secondi e di nuovo si trovano insieme. Quindi il camion e la macchina hanno fatto la stessa strada, ma il camion l'ha fatta in 24 secondi, la macchina in 20, perché ricordiamo che per i primi 4 secondi la macchina resta ferma. Quindi calcoliamo quanta strada fa il camion in 24 secondi, velocità per tempo, formula del moto rettilineo uniforme, troviamo circa 267 metri, che è anche la strada che fa la macchina, come abbiamo detto. Quindi possiamo, con la formula inversa, trovare l'accelerazione della macchina, 2 per 267 metri diviso t alla seconda, cioè diviso 400 secondi quadrati, e l'accelerazione della macchina è 1,33 metri al secondo quadrato, che noi volendo potremmo anche riscrivere e esprimere in chilometri orari al secondo, anche se non è necessario. Basta riscrivere l'accelerazione come delta V su delta T, quindi la macchina ogni secondo che passa, delta T uguale a 1 secondo, aumenta la sua velocità, delta V, di 1,33 metri al secondo. moltiplichiamo questo valore per 3,6 e quindi otteniamo l'aumento di velocità ogni secondo che passa, espresso in chilometri orari. Quindi abbiamo che la macchina ogni secondo che passa aumenta la velocità di 4,8 chilometri orari, cioè parte da ferma, dopo un secondo va a 4,8 chilometri orari, poi va dopo un altro secondo a 9,6 chilometri orari e così via. Ora ci sono da fare i tre grafici in funzione del tempo, il più facile è sempre quello dell'accelerazione, poi la velocità e poi la posizione. In colore verde disegniamo il moto del camion che non accelera perché va a velocità costante, quindi la sua accelerazione è sempre zero. La macchina invece ha un'accelerazione zero finché rimane ferma, quindi fino all'istante zero secondi, ma poi da quel momento accelera con accelerazione costante 1,33 metri al secondo quadrato. Passiamo alla velocità, il camion mantiene una velocità costante da sempre, quindi 11,1 metri al secondo. La macchina invece sta ferma fino all'istante zero, quindi la sua velocità è zero, poi cresce progressivamente nel tempo a ritmo costante. Abbiamo detto prima che acquista 1,33 metri al secondo ogni secondo che passa. E volendo possiamo anche calcolare la velocità della macchina al momento del controsorpasso, anche se non era richiesto. Basta applicare la formula della velocità del moto rettilineo uniformemente accelerato, sostituire i valori, parte da ferma, poi l'accelerazione e i 20 secondi, perché ci ha messo 20 secondi la macchina, eccoli qua, a raggiungere e superare il camion. Dopo 20 secondi la velocità della macchina è 26,7 metri al secondo, giustamente maggiore della velocità del camion, che è rimasta sempre inalterata, 11,1 metri al secondo. Giustamente come avevamo detto prima, al momento del controsorpasso, la macchina va più veloce del camion. Infine c'è il grafico posizione-tempo, che però ho sbagliato per due motivi. Il primo è molto banale, perché la posizione va espressa in metri, anziché in metri al secondo, altrimenti sarebbe una velocità. Il secondo motivo più grave è che la macchina e il camion non si incontrano all'istante t uguale a zero, ma all'istante meno 4 secondi. Quindi questa retta verde che descrive il moto del camion deve partire da qua. Questo è il disegno corretto, dove si vede che macchina e camion si incontrano a meno 4 secondi. All'istante zero, invece, il camion ha già percorso 44,4 metri, in quanto sono passati 4 secondi e il camion andava a velocità 11,1 metri al secondo. Quindi 4 secondi ha fatto praticamente 44 metri. Dopodiché macchine e camion si rincontreranno dopo 20 secondi. In un punto che si trova a 267 metri dall'origine. Ricordiamo che la strada è messa in verticale e quindi dobbiamo immaginare macchine e camion che camminano sulla strada in questo modo, dal basso verso l'alto. Tutti i discorsi e ragionamenti che seguono saranno comunque corretti dal punto di vista concettuale, tranne questo dell'incontro di macchine e camion a meno 4 secondi. Cioè l'unica cosa sbagliata nel resto del video sarà aver fatto incontrare macchine e camion a zero secondi anziché a meno 4 secondi. Infine c'è l'ultimo grafico, posizione tempo, dove si vede il moto del camion che è un moto rettilineo uniforme, questa linea verde. Ricordiamo sempre che la strada è messa in verticale, quindi qui è quando i due mezzi sono appagliati all'inizio e qua è il 267 metri, questa è la strada, quindi i due mezzi hanno percorso 267 metri e di nuovo si ritrovano appagliati. Solo che il grafico della macchina non è lineare ma è una parabola, infatti sappiamo che la formula dello spazio percorso in modo uniformemente accelerato è una parabola in funzione del tempo. In questo caso parabola con concavità in alto perché la macchina accelera, il coefficiente di t alla seconda è positivo, infatti vediamo la parabola con la concavità in alto. Parabola che inizia però all'istante zero perché prima la posizione della macchina era sempre uguale a zero. Infine ricordiamo che in ogni momento, in ogni istante, per esempio questo, la pendenza del grafico, cioè l'inclinazione della retta tangente, ci dà la velocità istantanea. Vediamo che questa inclinazione diventa sempre maggiore e quindi vuol dire che la velocità istantanea sta aumentando, come infatti abbiamo visto prima, questa è la velocità istantanea della macchina che aumenta. Questo aumento di velocità è rappresentato dall'aumento dell'inclinazione, cioè della pendenza del grafico. Vediamo infatti che nel momento del controsorpasso il grafico della macchina ha una pendenza maggiore del grafico del camion perché la velocità istantanea della macchina in quel momento è maggiore della velocità del camion, come abbiamo visto prima. Qui la macchina va quasi a 27 metri al secondo e il camion va a 11 metri al secondo. Camion che invece la sua pendenza, la sua inclinazione rimane costante perché lui va a velocità costante, quindi l'inclinazione costante vuol dire che non cambia la sua velocità. Ultima considerazione, siccome la macchina parte da ferma, la sua velocità all'inizio è zero e quindi la pendenza iniziale di questa parabola è piatta, quindi è zero. È una parabola che ha l'asse di simmetria qua, cioè che è perfettamente centrata nell'origine degli assi del grafico. E questo torna con il fatto che manca il termine di primo grado. Quindi abbiamo una parabola perfettamente centrata nell'origine, un mezzo atti alla seconda. Vediamo quindi in conclusione che la macchina e il camion ci sono due momenti che stanno nello stesso posto, all'istante zero e all'istante 20 secondi.